Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix, l'Inter vince una partita importante di Champions League aggiungo subito un commento riguardo questa nuova Champions perché ovviamente ho aperto la classifica ma l'avrete fatto sicuramente tutti quanti voi, ma è presto per capire veramente le dinamiche di questa nuova Champions League è il primo anno, non è più come l'anno scorso dove basta guardare il nostro girone e quindi dopo due partite si faceva già il conteggio di quelle che andavano vinte per forza sicuramente però come ho detto nell'introduzione questa è una partita fondamentale perché l'Inter avrà tanti scontri diretti difficili con top club europei, pertanto poi i punti bisogna andarli per forza a prendere contro questo tipo di squadre come la Stella Rossa e siamo stati bravi a non deconcentrarci, cosa che invece hanno fatto loro tanti segnali, positivi per lo più perché quando si vince soprattutto 4-0 non si può che essere positivi e non verrò sicuramente qua a fare critiche pesanti alla squadra però c'è un qualche cosa che mi rimane sempre qua perché ho visto delle cosine che mi lasciano un attimino dei pensieri ve li sottopongo, voi scrivetemi qua sotto cosa ne pensate ma prima come sempre guardate il video, buona visione è bello e soddisfacente vincere in Champions League e soprattutto farlo potendosi permettere anche di fare un parziale turnover e sostituendo l'intera coppia d'attacco dell'Inter questo conferma quanto avevo detto già negli scorsi video io non credo così tanto a questa prima linea e seconda linea credo che sia più un mix, questo non vuol dire che tutti i titolari siano esattamente uguali a tutti i panchinari ma io credo che bisognerà guardare nel corso della stagione anche i momenti di forma perché non c'è tutta questa differenza fra titolare e riserve pertanto dovrà essere bravissimo Inzaghi a comprendere quando far giocare determinati giocatori quando farne giocare altri e aggiungo un altro aspetto che a mio avviso è importantissimo nel calcio guardando anche gli avversari perché l'Inter deve avere l'umiltà di comprendere quali siano i giocatori migliori per affrontare determinate squadre in particolare quando si gioca contro le big quindi io non credo, ve lo dico subito quest'anno in particolare nell'11 titolare quello classico dell'Inter che tutti noi sappiamo qual è sono contento di aver visto giocatori entrare e giocare bene sono contentissimo di aver visto Zelischi fare una buona partita a titolare e spero di poterlo vedere sempre più spesso giocare con questa maglia perché ho dei dubbi sulla tenuta fisica di Mkhitaryan troppo spesso protagonista di palloni persi facili palloni persi e quindi questo è frutto un pochino della mancanza di condizioni fisica un pochino in un altro aspetto che riguarda la deconcentrazione e parto subito da questo aspetto per poi andare a parlare delle cose positive che ho visto ho sentito in telecronica in più di un'occasione bergomi far notare un qualcosa che io sto cercando di dirvi da un paio di settimane e cioè non vedo la stessa attenzione e voglia che aveva l'anno scorso tutta la squadra dell'Inter non uno o due giocatori ma proprio tutta la squadra nel rientrare e correre all'indietro in situazioni pericolose e questa cosa la noto ogni volta di più anche questa sera l'Inter si è trovata scoperta in 3, 4, 5 occasioni quelle occasioni sono nate da un recupero para da parte della Stella Rossa che poi ha portato dei contropiedi super pericolosi dove l'Inter tante volte si è fatto trovare in inferiorità numerica un'inferiorità numerica una volta partita ci può stare quando cominciano ad esserci 4, 5 episodi a partita e il mio pensiero è quello proprio di una mancanza di concentrazione ma soprattutto mancanza di voglia e la voglia che invece l'anno scorso non è mancata mai a nessuno non faccio di tutto il buon fascio e quindi comincio subito dalle cose positive dopo questo piccolo appunto che spero sia un trend che cambierà nel brevissimo e quindi vado subito dalle cose positive perché ci sono invece due giocatori che hanno messo la stessa voglia che avevano l'anno scorso e hanno provato fino all'ultimo a dare tutto e a correre all'indietro e parto subito col mio migliore in campo so già in partenza che molti di voi non saranno d'accordo perché per molti di voi fa schifo un po' giocare a calcio non è da Inter, è stato parlato troppo, è vecchio e chi ne ha più ne metta e il mio migliore in campo è Mark Arnautovic Arnautovic a mio avviso ha giocato molto bene molto molto bene creando calcio, giocando per la squadra ma soprattutto è stato uno di quelli che ha corso di più senza palla e addirittura nel secondo tempo c'è stata un'azione molto pericolosa della Stella Rossa che è stata recuperata proprio da lui facendo una corsa dall'attacco alla difesa e recuperando palla in area di rigore io credo che questo nessuno se lo potesse aspettare da un giocatore con il suo ego la sua sicurezza, la sua spavalderia e invece in questo contesto si è calato e si è messo completamente a disposizione della squadra a mio avviso i fischi di questa sera non in generale perché Arnautovic non ha sempre giocato bene quindi chiariamoci i fischi in passato in partite brutte sono super giustificati perché a mio avviso quando il giocatore gioca male è giusto che il pubblico anche possa dissentire ma i fischi di questa sera sono profondamente ingiusti per uno dei migliori in campo fino a quel momento e di fianco a lui ci metto proprio il suo compagno di reparto Taremi io l'ho definito il nuovo Dzeko e più vado avanti e più penso che lui sia veramente il nuovo Dzeko magari non avrà le movenze veramente elegantissime del bosniaco ma a livello qualitativo, a livello tattico, a livello tecnico non ha da invidiare a Dzeko nel senso che è un giocatore che sa giocare con la palla sa giocare con la squadra è forte fisicamente, sa accompagnare, sa attaccare allo spazio sa attaccare all'aria di rigore meritava di segnare un gol per quello che ha fatto questa sera per come si è messo a disposizione la squadra e soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più di Taremi questa sera è stata l'attitudine a non voler per forza segnare perché doveva fare il primo gol con l'Inter ma fare le cose giuste in campo le scelte di gioco migliori in ogni momento della partita e io questa cosa la apprezzo veramente in maniera estrema pertanto metto Arnato Vicettaremi come migliori in campo a pari merito e sono felicissimo che una partita del genere dove non c'erano proprio Lautaro e Turam abbiano dimostrato di essere comunque due giocatori che possono servire e possono esserci utili un altro giocatore che mi è piaciuto molto è stato Cialanoglu in questa prima parte di stagione dell'Inter qualcuno ha subito detto non è il Cialanoglu dello scorso anno io invece ho visto lo stesso Cialanoglu ho visto una squadra che faceva più fatica e ovviamente un giocatore da solo non ti può coprire tutte le defezioni o tutte le mancanze di aiuto da parte di tutta la squadra con Cialanoglu l'Inter ha un qualcosa in più sia in fase difensiva che in fase offensiva segna su punizione tra l'altro che è una cosa che mi fa molto piacere perché Cialanoglu prima che arrivasse in Italia sembrava quasi solo un tiratore di punizione col Milan qualche punizione era messa con l'Inter ancora mancava questo colpo e a noi ci serve uno che tira le punizioni perché nel calcio nel 2024 segnare anche su punizione ti dà un valore aggiunto e le squadre che hanno giocatori pericolosi che segnalano il gol su punizione hanno una soluzione in più per risolvere le partite credo che lui dovesse prendere fiducia e spero che questo gol possa aiutare a ritrovare il Cialanoglu che segna anche le punizioni e lo fa con continuità perché è assolutamente nelle sue corde se devo trovare due note negative per quanto riguarda le prestazioni dei singoli sono onesto uno di quelli che mi è piaciuto di meno per quanto riguarda proprio l'attitudine e la concentrazione è stato Alessandro Bastoni lo vedo in difficoltà sia fisica sia mentale tante volte sbaglia degli appoggi facili e per un difensore che è diventato famoso per la sua qualità tecnica è un qualcosa che non ci possiamo aspettare e dobbiamo assolutamente pretendere che non succeda pertanto ha bisogno probabilmente di riposo Alessandro e credo che Nzaghi debba assolutamente comprendere come recuperare al meglio questo difensore perché è uno dei più forti del campionato è uno dei più forti in Europa sono tranquillo perché siamo comunque sia all'inizio della stagione che è iniziata da un mese pertanto mi aspetto assolutamente che molti giocatori trovino la miglior forma nelle prossime settimane e tra questi vorrei rivedere in condizioni Denzel Dumfries io non sono un suo grande ammiratore sono onesto questa sera non mi è dispiaciuto quindi non voglio dargli un voto insufficiente se dovessi dirgli un voto darai 6 ma non ho visto il Denzel Dumfries che io conosco perché se c'è una caratteristica che lo ha reso un titolo dell'Inter e che gli sta portando un contratto che gli varrà quasi 4 milioni di euro all'anno sicuramente la prima caratteristica che mi viene in mente è la progressione e la forza fisica attualmente tutte le volte che lo vedo correre lo vedo ancora indietro e lo vedo faticare so che è stata fatta una preparazione pesante questa estate e quindi ripeto lo stesso discorso per bastoni voglio vedere nelle prossime settimane questi ragazzi tornare ad essere in condizioni e voglio rivedere l'Inter correre come un anno fa perché se devo dire oggi cosa manca a quest'Inter manca la quantità a livello qualitativo invece penso che questa squadra sia migliorata nettamente rispetto allo scorso anno e questo lo dico già adesso con grande grande gioia iscrivetevi sotto cosa ne pensate della partita chi è secondo voi il migliore in campo noi come sempre ci vediamo al prossimo video se non siete iscritti al mio canale e vi piace l'Inter iscrivetevi ciao ragazzi